Tutta la città di Pisa è indignata per lo sfregio russo alla Torre Pendente. Il celebre monumento conosciuto ed ammirato in tutto il mondo a Mosca è finito al centro dell'esposizione cronache delle crudeltà della Nato, trasformato in rampa di lancio per un missile sorretto dal simbolo del dollaro. L'immagine in mostra al Museo di Storia Contemporanea della capitale russa ha lasciato sbigottiti i pisani. Si tratta di una provocazione priva di intelligenza e di conoscenza geopolitica, ha commentato sconcertato l'assessore comunale al turismo Paolo Pesciatini. A questo, ha aggiunto l'assessore, si somma pure un'ignoranza storico-culturale che arriva a piegare quello che è un patrimonio di tutta l'umanità, strumentalizzazioni di regime spacciandole per arte. L'esposizione comprende opere d'arte, foto d'archivio, filmati e manufatti digitali relativi non solo alla guerra fredda, ma anche ai conflitti più recenti che hanno visto impegnata la Nato in prima linea, dalla Jugoslavia all'Iraq e all'Afghanistan fino alla Siria.